Da sempre diviso tra le sue passioni medicina e musica, il medico pistoese Stefano Nerozzi ha pubblicato il suo terzo disco in solo. Da oltre 40 anni chitarrista e compositore delle musiche del gruppo pistoese degli Overa, Nerozzi ha dedicato gli ultimi mesi a comporre i brani di un disco strumentale suonato con una chitarra decisamente particolare. La particolarità di questa chitarra è di avere cinque coppie di corde, anziché le sei classiche corde singole della chitarra e di avere una cordatura cosiddetta rientrante, cioè gli mancano le corde basse sostanzialmente, una chitarra con il fondo curvo e che si costruisce appunto con le doghe come i vecchi liuti e le chitarre rinascimentali, costruito da un liutaio calabrese che è Sergio Pugliesi e costruisce una chitarra per volta e che quindi personalizza ogni chitarra. Tra l'altro costruita con vari legni. Sì, con essenze diverse, infatti uno dei brani del disco si chiama proprio Essenze perché è costruito con tanti legni, la tavola armonica è un legno, le fasce, il fondo è un altro tipo di legno, ha molti profumi e molte essenze, molti timbri che caratterizzano proprio il timbro finale di questo strumento. La chitarra battente io l'ho scoperta in un disco di Pino Daniele degli anni Ottanta, musicante, poi grazie al grande lavoro del chitarrista calabrese Francesco Loccisano mi sono innamorato di questo strumento. Questo disco che è uscito in digitale per l'etichetta Visage esce anche in vinile. Si può richiedere presso il sito dell'Associazione Culturale 900, disco completamente strumentale con tutti i musicisti pistoesi. Soprattutto voglio citare Gabriele Gai che oltre ad aver registrato e mixato il disco ha suonato la batteria, il pianoforte in diversi brani, poi Alessandro Agostini al contrabbasso, Paolo Ciampi al trombone. Insomma musicisti importanti e una collaborazione specialissima perché in un brano all'organetto diatonico c'è Riccardo Tessi che per me è stato un privilegio e un onore avere. Il suono che ne esce è bellissimo, questo brano a chi è dedicato? Questo brano si intitola 25 maggio ed è dedicato a mia figlia Benedetta e quindi è per me un brano emozionante, molto significativo che le dedico con tutto il cuore.